Ottica Vanzi vuole farci credere che acquistando due paio di occhiali avremo diritto il suo giorno di vacanza in una località italiana di mare e montagna e possiamo portarci anche tutta la famiglia. Noi vogliamo vederci chiaro. Consultate il numero verde 800 093 096. Ecco i suoi occhiali ed ecco la sua vacanza.